Ausofer, quando lo interroga l'intelligence alleata, conferma che in realtà lui e il figlio erano caduti nella trappola dei servizi britannici che erano operanti anche in Portogallo e che avevano teso la trappola per far arrivare, sfruttando loro due, padre e figlio, e quindi ventilando l'ipotesi di agganciamento a una pace anglo-tedesca per una successiva diversione strategica contro la Russia, quindi lui avalla l'ipotesi che avevo preannunciato prima, vale a dire che loro due sono stati utilizzati in quanto amici di S. sin dai tempi dell'Ansberg, per cui il Meikan fu dettato alla presidenza di Ausofer e di S. da Hitler stesso, e quindi come suggeritori, lui conferma nell'interrogatorio che avviene il 28 settembre del 1945. Ecco, leggi un brano. Lo devo ritrovare, aspetta un attimo. Siamo praticamente all'interrogatorio cui viene sottoposto Carl Ausofer, il fondatore della geopolitica mondiale, il 28 settembre, nonché ideologo teorico dell'Ebensraum, italiano, il 28 settembre del 1945. Questo interrogatorio l'ho recuperato dagli archivi dell'Office of Strategic Service, Record Group 226, a College Park nel Maryland. E' stratta cinque pagine. Lo traduco integralmente in italiano. La seguente traduzione presenta un'immagine soggettiva ma vivida di una delle personalità più influenti della Germania nazista. Intervista con il professor Carl Ausofer, maggiore generale in pensione. Uno, Ausofer vive abbastanza lussuosamente sulla cima di una collina, lontano dai suoi concittadini. Il cartello che indicava la strada che portava alla sua tenuta è stato rimosso. Questo dicono gli interroganti alleati. Ci presentammo a casa sua e poco dopo ci ritrovamo, siamo a guerra finita, 28 settembre 1945, e poco dopo ci ritrovamo in piedi nella sala di questa sede rurale di saggezza. Il professore indossava una vestaglia, calze di lana e pantofole di feltro. I suoi baffi sono grigide e ancora abbastanza piccante. Quindi è stato interrogato a casa sua? Esatto. Dopo aver dichiarato la nostra attività, dicono gli interroganti alleati, gli abbiamo posto la prima domanda. Domanda. Hitler? Dicono loro. Professore, oh no. Il suo viso assunse un'espressione dolorosa. Prima di tutto dovrebbe stabilire alcuni fatti. Poi hai iniziato. Da questo momento in poi, e fino a quando non abbiamo posto l'ultima domanda, Ausofer ha cercato di eludere le nostre domande dirette, riportando la conversazione sui suoi argomenti preferiti. Vale a dire, uno, qui ho messo, due, sua moglie ebrea, la moglie di Ausofer era ebrea. In seguito ci disse che Hitler le aveva abbasciato la mano. Gli abbiamo chiesto come fosse successo che fosse stata invitata ai ricevimenti in quanto ebrea. Bene, rispose. Era un caso limite ai sensi della legge di Nuremberg. Tre, i suoi amici politici in tutto il mondo. A quel tempo Baldwin mi disse, sai, François Ponset è uno dei più belli. Questo dice Ausofer. Quattro, i suoi amici ebrei, di cui afferma di aver salvato le vite. Ausofer avrebbe salvato le vite di ebrei. Alla domanda su come fosse riuscito a sostenere un regime che aveva ucciso centinaia di migliaia di ebrei, rispose che lui e Hitler avevano litigato e si erano separati nel 1938. Quattro, l'intervista presentata nel seguente testo non è una relazione testuale, ma una condensazione delle risposte verbose, circoscrizionali ed evasive di Ausofer. Questa è un'altra cosa interessante. Le citazioni delle opere di Ausofer provengono dal suo Der National Socialistische Gedanke in der Welt, Das Neue Reich, Calvay 1933. Domanda, quali posizioni ufficiali avete ricoperto nel Terzo Reich? La prima domanda che viene rivolta dagli interroganti dell'intelligenza alleata a Kalaushofer. Il professore risponde Nessuno, non sono mai stato un membro del partito. Nel 1919 ricevetti una dimissione per invalidità e fui ritirato dall'esercito in pensione con il grado di maggiore generale. Da allora non ho ricoperto alcuna posizione ufficiale. Domanda, non appartenevate al Vereine für Deutschkamp in Ausland, Unione per il Germanesimo all'Estero? In quale veste? E lui risponde Oh sì, quello, ero stato eletto Boonsleiter, leader della Lega. Dalle commissioni distrettuali, Boonsleiter è la posizione più alta. Domanda, e l'Accademia di Germania? Il professore risponde, beh sì, sono stato presidente di questa Accademia dal 1934 al 1937. Tuttavia questa Accademia era una società completamente non politica ed indipendente. Durante la mia associazione con l'Accademia tedesca ho assunto il randello per Thomas Mann. Deve la sua ammissione a me, dice Aushofer. Thomas Mann sarebbe stato ammesso all'Accademia tedesca per merito di Aushofer. Questo dichiara Aushofer. La serie Das Neue Reich, cioè il nuovo Reich, in cui è stata stampata l'opera di Aushofer, sopra menzionata, è stata pubblicata da questa Accademia non politica già nel 1933, dice lui. Domanda, qual è la tua interpretazione della geopolitica? Il professore risponde, l'espressione del rapporto tra le sacre qualità della terra e gli sforzi politici dell'uomo. Domanda, in che modo voi e i vostri insegnamenti avete resistito al nazismo? Malamente, risponde il professore. Già nel 1938 caddi in disgrazia con Hitler. Non ha mai capito la geopolitica e voleva usarmi per scopi di propaganda. Non ho avuto alcuna influenza sul partito se non attraverso Rudolf Hess. Già nel 1933 mi fu chiesto di divorziare. Mio figlio minore ha trascorso otto mesi in prigione e mio figlio maggiore è stato colpito ed ucciso dalla Gestapo. Qui Aushofer si riferiva ad Albrecht, il cui pareremo più avanti. L'unica prova della sua morte violenta è assente sulla testimonianza di suo fratello minore. Io stesso sono stato oggetto di persecuzione dal 41, dice Aushofer. Sono stato rinchiuso e costretto a scrivere un rapporto sul volo di Hess. Domanda, quanto voi eravate vicino a Hitler? Il professore risponde, sono stato in grado di influenzarlo solo attraverso Hess. Ho incontrato Hitler per la prima volta intorno al 1924. Quindi sarebbe stata non presente all'Hansberg evidentemente. O tranne che lui inizi proprio da quando... Domanda, non vi siete opposto immediatamente al suo programma di partito? L'ho considerato come propaganda e non credevo che sarebbe stato realizzato. Ricordo bene la mia prima impressione di Hitler, un uomo arrabbiato con gli occhi eccitati che solo Hess poteva calmare. Hitler stesso non conosceva sentimenti di amicizia. Il suo risentimento per la superiorità di chiunque altro era colossale. Domanda, da quanto conoscete Hess? Risposta, lo conoscevo dal 1918 fino al 1923, era uno dei miei studenti all'università. Non vorrei ferire nessuno, ma devo ammettere che Hess aveva più carattere e forza di carattere che intelligenza. Era molto fedele e non voleva chiedere il mio consiglio. Domanda, qual è la vostra opinione sul suo volo per l'Inghilterra? Risponde Aushofer. Fu la fuga di un uomo eroico e idealista da una situazione insopportabile. Questa è una bella risposta comunque. Mi viene in mente quello che disse Hitler di Hess. Abbiamo consegnato alla storia la figura di un puro idealista. Bellissima questa qua. Abbiamo consegnato alla storia la figura di un puro idealista. Domanda, qual è stata la vostra posizione politica dal 1938? Professore, ho fatto tutto il possibile per preservare la pace. A quel tempo venivo spesso chiamato al Ministero degli Esteri, dove era stata chiesta la mia opinione su questioni come l'accordo navale, il germanesimo all'estero, l'Asia orientale, eccetera. Feci anche viaggio all'estero e fui ricevuto dal Papa. Ho trovato il mondo intero insolitamente ricettivo all'idea di pace. So positivamente che durante la conferenza sull'Africa, 4-12 ottobre 1938, tenutasi poco dopo Monaco, le potenze occidentali decisero di affidare determinate colonie alla Germania. Quindi tutta la balla che la Germania con Monaco fu bandita, eccetera, in realtà era al centro della diplomazia mondiale, per offrirgli le colonie addirittura. Domanda, non pensate che questa volontà possa essere attribuita alle invasioni della Spagna Rossa, della Renania, dell'Ausia e dei Sudeti? Qual è la vostra opinione sull'annessione dei Sudeti? Professore risponde, questa annessione va di pari passo con le mie teorie. I tedeschi della zona dei Sudeti avevano il diritto di unirsi al Reich. Inoltre erano stati perseguitati. La Cecoslovacchia potrebbe esistere senza le piccole aree di confine. Domanda, avete partecipato alla conferenza sull'Africa? Ho partecipato a titolo consultivo. Alla delegazione tedesca è stato permesso solo di ascoltare le proposte, ma non è stato permesso di prendere parte alle discussioni. Secondo me Hitler avrebbe dovuto ballare di gioia. Il nostro obiettivo di realizzare l'unione pacifica di tutti i tedeschi era stato raggiunto. Tuttavia la faccia di Hitler era scura di rabbia quando uscì. Non voleva rinunciare alla sua guerra. Mi sono avvicinato a lui e gli ho detto alcune cose che non voleva sentire. Da allora sono stato in disgrazia. Gli avevo chiesto come fosse possibile confondere il nostro accordo puramente egoistico con l'Italia, con un accordo basato su veri legami di amicizia, e gli avevo anche detto che il mondo non era mai stato così pronto per la cooperazione reciproca. Hitler tuttavia si accigliò perché per il momento gli era stato promesso solo l'Africa occidentale e non tutte le nostre ex colonie. Questa è interessante, questa parte quando dice mi sono avvicinato a lui e gli ho detto alcune cose che non voleva sentire. Da allora sono stato... Gli avevo chiesto come fosse possibile confondere il nostro accordo puramente egoistico con l'Italia, con un accordo basato su veri legami di amicizia. Lui sta ammettendo che in realtà è stata un'alleanza che praticamente Hitler interpretava in senso utilitaristico verso l'Italia, che poi è la motivo per cui Mussolini è stato tradito sia a Dongo, sia prima in quelle situazioni, sia dal momento dell'attacco alla Polonia e sia all'attacco alla Russia. Quindi che è la conferma? Però è un fatto che Hitler non voleva più che l'Italia entrasse in guerra, a un certo punto, nel giugno del 40. E lì si sarebbe stata la spinta di Churchill per indebolire la Germania a farci entrare in guerra. Quindi l'Italia avrebbe... Quello che era scritto nel carteggio, l'Italia sarebbe entrata in guerra su spinta di Churchill e forse anche dei francesi di Reynaud e Lebrun, ci sono quelle lettere in quel testo. Ho dimenticato di portare il testo, ne parleremo magari più successivamente, su Savoia, su Casa Savoia, l'archivio segreto di Umberto II, in cui ci sarebbero state queste lettere inviate a Vittorio Emanuele III, in cui si spingeva l'Italia ad entrare in guerra a fianco della Germania contro la propria Francia e contro la propria Gran Bretagna per avere un interlocutore moderato al tavolo della pace in una guerra che si credeva che finisse presto. Ma questo anche nelle carte cosiddette apopiche di De Toma c'era stato qualcosa di più. Sì, 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 assolutamente. Però continuiamo. Domanda. La colpa di Hitler e quindi il fatto di aver iniziato la guerra? Gli domandano. Professore, sì, certo, anche il professor ritiene che la colpa sia uguale a un errore. Questo sottolinea. Sì, certo, gli risponde Eusofre. Poi, tra parentesi, l'interrogante dice anche il professore ritiene che la colpa sia uguale a un errore. Bella domanda. Domanda. Quindi l'invasione dei sudeti non è stata un crimine? Gli risponde Eusofre. Ho pensato che la questione della Cecoslovacchia sarebbe stata risolta pacificamente. Qui lui non parla di Cecchia e di Slovacchia. Non parla di Repubblica Cecchia, parla di Cecoslovacchia. Penso interessante anche questo. Ho pensato che la questione della Cecoslovacchia sarebbe stata risolta pacificamente. E qui intervengono gli... Ecco perché sono già... Questo contraddice ciò che ha affermato sopra, scrivono gli interroganti. Domanda. Che ne dice del Giappone? Ma quelle guerre erano assolutamente rapine. Confronta der Nazionale Socialistische der Dank in der Welt. In fondo alla pagina 9. Non riconoscere i diritti territoriali in Manciuria per i quali hanno combattuto e sacrificato il loro sangue. Questo dice lui. Domanda. Cosa avrebbe dovuto fare la Germania nel 1938? E lui risponde. Consolidare. C'era abbastanza lavoro per andare in giro per 20 anni. Soprattutto se le aree industriali erano state organizzate come distretti agricoli indipendenti. A questo punto mettono fra parentesi gli agenti alleati. Piuttosto ingenuo. Credeva davvero che Hitler avrebbe convertito la sua Wehrmacht in un servizio di lavoro? Domanda. Quindi solo Hitler voleva la guerra? Professore. Risponde Aushofer. E Ribbentrop. Questo presuntuoso aveva molte ragioni per nutrire il rancore nei confronti dell'Inghilterra. Sentiva di non essere stato preso sul serio in Inghilterra, soprattutto dopo l'incidente di Hitler. Non si capisce quale fosse l'incidente. Domanda. Quanto voi conoscete Ribbentrop? Gli ho insegnato a leggere le carte. Bella questa. Cosa intendete leggere le carte? Gli ho insegnato i suoi principi politici di base, risponde Aushofer. Qual era l'atteggiamento di vostro figlio Albrecht? È stato il fondatore dell'Istituto Geopolitico di Berlino. Domanda. E ufficialmente? Niente affatto. Signore, aveva una scrivania al Ministero degli Esteri dove era stato consultato su certe questioni. Di tanto in tanto veniva mandato all'estero, ma solo perché aveva buoni collegamenti. Solo perché aveva buoni collegamenti, risponde due volte. Solo perché aveva buoni collegamenti. Domanda. Dove erano queste connessioni? Beh, ovunque. In Francia, Inghilterra, Svizzera è sempre stato il benvenuto. Inoltre non sono mai stato ben informato sul lavoro di mio figlio. Entrambi abbiamo semplicemente vissuto la nostra vita. Al contrario, sembrerebbe che il giovane Aushofer fosse una creatura di suo padre, portando avanti il lavoro della mia vita. Come dice il professore, lavorando in stretta collaborazione con lui e forse anche sui suoi ordini diretti. Questa è interessante. Domanda. Che collegamento aveva con il volo di S? Il professore risponde. Nel 1941 la Germania ha sondato trattative di pace verso la Gran Bretagna attraverso la Svizzera. Albrecht è stato inviato in Svizzera. Lì incontrò un agente confidenziale britannico, Lord Templewood, credo. In questa proposta di pace ci siamo offerti di rinunciare a Norvegia, Danimarca e Francia. Il professore, trappi parentesi gli interroganti, il professore aveva usato il termine generale Scandinavia ed era solo sulla nostra insistenza che diventasse più specifico e menzionasse la Norvegia e la Danimarca, aggiungendo che la Francia doveva tornare al suo precedente status quo. Evidentemente desiderava creare l'impressione che sapeva ben poco della questione. Lui, il padre dell'inviato, il patriota e il politico appassionato. Punto esclamativo. Un incontro più ampio si sarebbe tenuto a Madrid. Quando mio figlio tornò fu immediatamente chiamato ad Augusta da S, che poi è Augsburg, Augusta in italiano. Qualche giorno dopo S volò in Inghilterra. Domanda, perché? Professore, avevamo inviato lettere private ai nostri amici attraverso il Portogallo e presumo che alcune di queste lettere siano state intercettate dal servizio segreto inglese, che deve aver scritto le risposte che hanno indotto essa a volare in Inghilterra per l'attesa conferenza di pace e a lanciarsi col pagarute sulla proprietà di Hamilton. Apre parentesi. Confronta con quanto sopra. La fuga di un idealista dà una situazione insopportabile. Scrivono gli americani. Domanda, come è morto vostro figlio Albrecht? Risponde Aushofer. La Gestapo l'ho ucciso con un colpo alla nuca. Mio figlio minore lo seppellì con le sue stesse mani. Cinque. Ringraziamo il professore e ci congedammo. L'interrogatorio, peraltro abbastanza chiaro, ci dice varie cose sulle relazioni Aushoferes circoli britannici. In primo luogo, gli agenti dell'intelligence statunitense chiedono a Carla Aushofer qual è la vostra opinione sul volo di S in Inghilterra. Risponde Aushofer. Fu la fuga di un uomo eroico ed idealista da una insopportabile situazione. Risposta ufficiale. Risposta ufficiale. O Sibilina che sia, il tema del viaggio scozzese di S viene ripreso dagli interroganti Aushofer allorché gli chiedono quale sia stata la connessione dell'attività di intelligence del figlio Albrecht con il volo del 10 maggio del 1941. Risponde Aushofer. Nel 1941 fu tastato il terreno di pace in Gran Bretagna attraverso la Svizzera. Albrecht fu inviato in Svizzera. Lì egli incontrò un agente segreto britannico. Questa è una grande conferma. Lord Templewood. Io credo. In questa proposta di pace noi offrivamo di rinunciare a Norvegia, Danimarca e Francia. Il professore, scrivono gli agenti dell'OS, ha usato il termine generale di Scandinavia e fu solo dietro nostra insistenza che gli divenne più preciso e menzionò la Norvegia e la Danimarca, aggiungendo che la Francia doveva essere riportata al precedente status quo. Evidentemente, continuano gli agenti interroganti americani, Carlo Aushofer voleva creare l'impressione che egli conoscesse molto poco la questione. Lui il padre dell'inviato plenipotenziario di Albrecht Aushofer, il patriota e il passionale politico. Un più largo meeting, e adesso Aushofer di nuovo che parla, doveva essere organizzato a Madrid. Quando mio figlio ritornò, egli fu immediatamente chiamato ad Ausburg da S. Pochi giorni dopo, S volò in Inghilterra. A questo punto gli agenti USA domandano ad Aushofer. Perché? E Aushofer risponde, noi avevamo mandato ai nostri amici lettere private attraverso il Portogallo, ed io credo che alcune di queste lettere furono intercettate dal Secret Service inglese, che deve aver scritto le risposte che indussero essa a volare in Inghilterra per l'attesa conferenza di pace ed essere atterrato col paragatute sulla tenuta del Duca di Hamilton. E qui mi pare che c'è la conferma assolutamente. Attenzione, attenzione, invito a riflettere, chi ci ascolta è la tua grande intelligenza, sul fatto che io questo interrogatorio l'ho preso dagli archivi americani, perché gli inglesi non hanno, e ufficialmente non c'è nessun interrogatorio, e non ci sono documenti su Aushofer da parte britannica. Questa è la questione fondamentale. perché sono loro i pianificatori della trama spionistica. E quindi ancora il materiale è completamente classificato. L'incartamento di esse, quando io mi ne ho incominciato a occuparmene, parliamo del 2000, risultava ancora non consultabile, no, dal 98 me ne occupavo, non risultava ancora consultabile fino al 2017. quando io andai in Gran Bretagna nel 2016, ancora non risultava con tutto, che c'era anche all'Imperial War Museum, per cercare di capire, c'erano delle dipendenze dell'Imperial War Museum, che non erano a Londra, ma erano in altre parti. Quindi adesso dovrebbero essere svicolate? Non lo so, questa è una domanda, perché? Perché c'è il discorso sempre del Duca di Kent, c'è la corona britannica nel mezzo, attenzione. Quel discorso del sabotaggio del Duca di Kent è importantissimo. Ma voglio dire, questo è l'interrogatore Aushofer? Questo di Aushofer, io ripreto, questo che ti ho citato, che ho riportato fedelmente qui, e addirittura in copia anastatica, e ci sono le fotografie proprio da Tiloschietti di questo coso, l'ho acquisito dagli Stati Uniti. Ti dico dove, perché bisogna vedere la data di declassificazione, se ne aspetta un attimo, Strategie Survey Unit, World Department, Formerly Office of Strategy, Washington, Strictly of Columbia, Intelligence Dissemination, Country Germany Munich, a Monaco, Professor Kalaushofer, number A62421, 27 settembre 1945, data del report, quindi è un'interrogatore del 27 settembre 1945, distribuito il 29 ottobre del 1945, numero di pagine 5, OSS, Secret, Counter Intelligence District, pagine 5. Quindi è del 45, ma declassificato, questo qui vorrebbe essere 97-98, se non è 96-98, è 96-95, ma ripeto e straripeto, a mie interpellanze, agli archivi britannici, su S c'è solo Spandau, su S negli archivi britannici, a College Park, ah scusami, a Kew Garden, c'è solo, solo ed esclusivamente Spandau. E di Spandau tu che hai pubblicato? Qua ancora non ho messo, ho messo altre cose su Spandau, ma no no, quei cosi lì ancora non li ho fatti. a Kew Garden, a Kew Garden, a Kew Garden, a Kew Garden, Grazie a tutti.